Inizia a mezzica un'intruido for our fans! No, no! No! Estas visto? Uno! 3, 2, 1... Vamo Stai! Sì, eravamo a Chiepia! México sta in la casa! E' così, spieghi! Si no, si sta in un'altra... ...più hai un per cento! Si n'è tutto il tuo... ...di stris con un legge! il momento di quanto? il momento di tutto il Mexico è qui lo deve restare tutto e questo è il 3 2 1 cambio questa carriera è il tempo il momento è per me grazie la stessa è un'altra la stessa è un'altra ora è un'altra stessa un'altra stessa che siamo che sia 1 3 2 1 cambio ok vediamo questo è un'altra stessa E' la S3, Valencia, ruido per la Métrica, che passa? 3, 2, 1, cambio! E' il turno di Melody, Francia sta in la casa, Francia sta nel palo della musica. La Peloton era una straniere pro scelta in Brasile. E' il resto 3 titoli. 3, 2, 1! Ok, Stef, è il primo round, pagato la tua artiglia, e la nuova! E' stato un'epoca di mexico! Oh, oh, oh! La primavera è stata la primavera, ha otto tre titoli. Non è successo, perché cani, cani, è due! E ora ha otto tre titoli! E' stato un'epoca di mexico! E' stato un'epoca di mexico! Cinco! Mettiamo a noi! Tre, due, uno! Cambio! Melody, questo ultimo round! Francia, è stata in la casa! Ehi! Wow! E' stato un'epoca di mexico! E' stato un'epoca di mexico! E' stato un'epoca di mexico! Wow! No puoi! Tres, dos, uno! Mi Valencia! Ma' ruido, la Valencia, ma' ruido! Qui falle! grazie Grazie a tutti.